Sempre il voto, cioè la motivazione per cui si fanno queste cose, è l'offerta della vita, i bambini sono la vita ed ecco perché vogliamo benedirli alla luce del Vangelo che abbiamo ascoltato, che ascolteremo. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sfidarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse, lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso e prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani, l'Iberi diceva. Ecco, chiediamo la benedizione al Signore su tutti i nostri bambini. Chi vuole può alzarli. Signore Gesù Cristo che hai benedetto e prediletto i piccoli e hai detto chi accoglie uno di loro accoglie me e saudisci le nostre preghiere per tutti i bambini. Tu che li hai fatti rinascere nel battesimo, custodiscili e proteggili sempre perché nel progredito degli anni rendano libera la testimonianza della loro fede e forti della tua amicizia per sederlo con le grazie dello Spirito Santo e la speranza dei pericoli futuri. Tu che vivi nel regno nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discele su di voi e con voi manca sempre. Amen. Ecco, benediciamo i bambini e naturalmente benediciamo anche le famiglie. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.